Ciao, sono Angela e sono l'insegnante della scuola dell'infanzia Campitelli di Grottaglie. E' proprio qui che si terrà il retake dedicato alla giornata della terra. Sarà ripulita la zona antistante della scuola e saranno ripristinate queste fioriere al suo interno. Di esse verranno applicati degli elementi con un materiale che proprio la terra ci dona, l'argilla. I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia Campitelli hanno le idee molto chiare, vogliono un mondo migliore e una terra più pulita.